A partire dal 1 settembre il contributo di autonoma sistemazione CAS sarà sostituito dal nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. Questa misura è stata decisa dal Governo che ha affidato la gestione alla struttura commissariale per il sisma del 2016. La cabina di coordinamento sisma presieduta dal commissario Guido Castelli ha raggiunto un'intesa sull'ordinanza che ne regola il funzionamento. In particolare il contributo sarà destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici. Tale contributo è riservato a coloro che hanno già richiesto interventi di ricostruzione ma non sarà più riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in una unità immobiliare presa in affitto, con l'eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con il cambio di passo nella ricostruzione il CAS cambia necessariamente natura e si lega sempre più alla necessità di garantire il rientro nella prima casa dei residenti dell'Appennino Centrale. Ha dichiarato il commissario Castelli il nuovo contributo tiene conto delle necessità delle famiglie ma anche della circostanza oggettiva che è assolutamente prioritario incentivare la presentazione dei progetti di ricostruzione privata. Il nuovo contributo sarà riconosciuto anche ai nuclei familiari la cui abitazione deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi di ricostruzione, limitamente alla durata del cantiere. Le famiglie interessate dovranno rendere una dichiarazione circa la permanenza dei requisiti entro il 31 marzo di ogni anno mediante una piattaforma informatica dedicata. Per garantire il finanziamento di questa misura sono stati stanziati 34 milioni di euro che saranno trasferiti entro il 15 agosto dal Dipartimento della Protezione Civile. Questa nuova iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la risoluzione delle problematiche abitative nei territori colpiti dal sisma nel 2016, ponendo l'accento sulla necessità di ricostruzione efficace e tempestiva.